Musica Gentili telespettatrici e telespettatori di Telebelluno, ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. E quest'oggi devo dire la verità, sono un po' in difficoltà nel senso che l'ospite che abbiamo in studio è veramente, potremmo chiedergli innumerevoli cose perché ha un curriculum lunghissimo, lo sintetizzo soltanto in alcune parti, per lungo tempo nel centro valanghe di Arabba come previsore ed esperto in climatologia. Poi per quanto riguarda invece la sua carriera alpinistica, innumerevoli vie, sci alpinismo, innumerevoli pubblicazioni, premio per il Modoro. Saluto quindi Anselmo Cagnati, perdonami Anselmo, ho fatto una presentazione molto sommaria ma in realtà avessi dovuto dire tutto il tuo curriculum. No, lasciamo stare i curriculum dai, è più che sufficiente. Allora Anselmo ma perché ti abbiamo chiamato qui? Perché ora sei in pensione professionalmente e ti dedichi con la tua moglie Tugliola a una grande passione. Chiaramente alpinismo, sci alpinismo, hai fatto delle spedizioni in Himalaya piuttosto che nei luoghi più remoti del mondo ma da un po' di tempo ti dedichi con grande passione allo sled dog. Ovvero sei masher. Allora, i cani da slitta in sostanza, sono i Siberian Aspi, tra l'altro passeranno delle immagini in sovrimpressione per far vedere al nostro pubblico anche questo che è questo interessante sport. E ti chiedo, ma è uno sport di nicchia? In Italia quanti siete masher con lo sled dog? Ma è difficile dire quanti siamo, in realtà lo sled dog è un insieme molto molto ampio di discipline che va dallo ski jogging, quindi dell'attività che si può fare con gli sci e un cane, al bike jogging, quindi un cane con la bicicletta o due cani con la bicicletta, fino alle attività con la slitta che possono essere fatte con due cani, con quattro, con otto, con sedici cani. Voi non quanti cani lo fate? Ma noi nelle gare che facciamo, che normalmente facciamo sui Scandinavia perché facciamo lunga distanza, facciamo con otto cani, però nel canile nostro ne abbiamo dodici perché come tutti gli sport, insomma anche i cani possono infortunarsi, possono avere dei problemi e quindi c'è un po' di ricambio. È certo. Che è necessario. Assolutamente, voi tra l'altro siete appena tornati dalla Svezia recentemente dove siete stati per 40 giorni, quindi gare di lunghe distanze, quindi nella Scandinavia le gare di lunghe distanze con i cani, voglio dire, distanze quanto Anselmo? Ma noi facciamo distanze che vanno dai 200 ai 350 km, questo è il nostro target, dopo in realtà esistono delle gare anche molto più lunghe, di 600 o anche di 1200 km, addirittura, però chiaramente bisogna avere per fare queste gare qui una dimensione del numero di cani anche notevolmente superiore. Ah certo, perché serve ricambio, credo. Prego. Perché serve ricambio di cani? Certo, serve ricambio, serve fare una selezione più accurata dei cani che possono percorrere queste distanze così lunghe, per cui per noi diciamo questo è un po' il nostro target che è possibile per adesso. Anselmo, la gara più lunga che hai mai fatto con i tuoi cani? 350 km, sì. 350 km? Sì, sempre in Scandinavia. Ecco, ma in Scandinavia, voglio dire, equipaggi italiani, ci hai parlato dello sviluppo nei paesi appunto scandinavi, Norvegia, Svezia, Finlandia. Quando vi vedono italiani, scusami Anselmo, vi vedono un po' con un certo stupore immagino, no? Sì, questo è vero, perché l'anno scorso ad esempio siamo andati a fare una gara nell'estremo nord della Norvegia, a Tanabru, che è un piccolo paesino proprio che dà sull'oceano artico. E lì effettivamente ci hanno guardato con un po' di curiosità, perché avevamo fatto quasi 4.000 km per arrivare lassù. E' stata una cosa anche abbastanza curiosa, insomma, però adesso diciamo che sempre più italiani fanno questa attività e quindi si recano in Scandinavia, non è più una novità anche per loro, insomma. Ci sono tanti major dell'Europa meridionale, quindi italiani, spagnoli, non tantissimi, però il numero è sempre crescente. Ecco, e qui veniamo invece alla connessione con il nostro territorio, nel senso che io immagino per fare queste gare di lunga distanza, per te, ma soprattutto per i cani, serve un certo allenamento. Tu sei di Falcade, dove è andata ad allenarvi per queste trasferte scandinave? In realtà questo è uno dei grandi problemi che abbiamo, perché trovare dei posti per allenare i cani per attività simili qua nelle Dolomiti non è semplice, perché le Dolomiti sono delle montagne bellissime, però nello stesso tempo sono anche molto antropizzate, quindi ci sono tanti impianti di salita, ci sono strade, ci sono altre attività che vengono svolte sul territorio, e quindi la disponibilità di zone libere, diciamo, per poter trovare dei percorsi sufficientemente lunghi, non è che sia molto ampia, però esistono delle possibilità, che sono soprattutto i percorsi multiuso, pedonali, che servono sia per l'attività, diciamo, di semplice escursionismo, oppure per attività con le ciaspole, o con gli sci, certo non potrete fare 200 chilometri, però non facciamo 200 chilometri, però se riescono a trovare dei percorsi intorno ai 20-30 chilometri, che sono una base minima per poter allenare i cani, noi li troviamo ad esempio nella zona della Val Veneggia, nel parco naturale del Pala di San Martino, e lì riusciamo a trovare dei percorsi dai 20 ai 30 chilometri, oppure qualche volta andiamo in Val di Gares, per esempio, oppure ci sono anche altre località in provincia di Belluno, mi viene in mente per esempio il Cansiglio, quando c'è neve, dove è possibile praticare questa attività, mi viene in mente il Comelico, quindi la zona di Nemes, Senes, là nel parco d'Ampezzo, anche là ci sono delle possibilità notevoli per praticare questa attività, diciamo che non è semplice, perché questo richiede di fare degli spostamenti, è difficile trovare dei percorsi, la comodità sarebbe quella di avere delle piste davanti a casa, che partono da casa e quindi si attaccano i cani e si va, però non è possibile, invece questo non è possibile, bisogna sempre spostarsi col furgone, e questa è una delle cose, diciamo delle cose più gravose, perché bisogna sempre caricare, scaricare, c'è più il tempo che si impiega a fare questo che è quello in cui si sta in pista. Ecco Anselmo, ma una curiosità, potrebbe essere, so che tu hai fatto anche delle dimostrazioni, dimostrazioni, no, di sled dog in passato, anche a Falcade, piuttosto che in altri territori, è uno sport anche che si collega al turismo per dare un'opportunità, si parla di diversificazione, ovvero turismo non soltanto scida e discesa, potrebbe essere portare i turisti con i cani, sarebbe una cosa entusiasmante per loro, è fattibile secondo te? Sì, certo che è fattibile, c'è qualcuno che già lo fa, in provincia di Belluno, c'è una scuola ad esempio in Cansiglio che fa questa attività con i turisti, c'è stata fino a poco tempo fa in Comelico, adesso non so se è ancora attiva o meno, però è possibile, è uno sbocco possibile anche per qualche giovane che volesse cimentarsi in questa attività, perché le richieste sono moltissime, noi ad esempio facciamo ogni giorno, sì ogni giorno, ogni anno a Falcade, due giorni in cui facciamo fare dei giri ai turisti con i cani, quindi mettiamo a disposizione il nostro team insieme al nostro amico, quindi per far girare là sulla piana di Falcade i turisti, in questi due giorni, non lo facciamo continuativamente, immagino l'ho entusiasmo insomma, sì non lo facciamo continuativamente perché, per varie ragioni insomma, perché ormai io sono in pensione e quindi preferisco dedicarmi di più all'attività che mi piacciono di più, le tue passioni insomma, certo, però per i giovani, dici giustamente, potrebbe essere quindi anche una professione, secondo te? Sì sì certo, certamente sì, certamente sì, perché c'è sempre, c'è una richiesta crescente penso di attività alternative allo sci, anche nelle nostre zone, anche a Falcade ad esempio, noi quando facciamo questa attività abbiamo un pieno di prenotazioni, già dopo due giorni che lanciamo questa proposta, quindi se stessimo là una settimana avremo lavoro per una settimana, se stiamo 15 giorni avremo lavoro per 15 giorni, quindi è sicuramente un possibile sbocco, una possibile attività, non è una cosa facile diciamo, però per un giovane che ha passione della neve, che ama un po' la natura, i cani eccetera, è uno sbocco professionale certamente possibile. E per imparare a fare il mace per cogliere un pezzo che sia dalla mattina alla sera, prendo, ah adesso prendo i cani da slitta e vado, saresti disposto magari a insegnare a qualche giovane se decidesse di... Ma io ho già dei giovani che frequentano il nostro canile, quindi che ci seguono, in particolare uno insomma, perché non è poi che poi sia una cosa così facile da fare anche per un giovane, nel senso che abbiamo questo ragazzo che è molto giovane che viene là, ci aiuta con i cani, ha imparato a fare, a guidare alla slitta, a condurre il suo team, è possibile insomma, certamente sì. Senti abbiamo parlato di numerose pubblicazioni di sci alpinismo, ma anche una che riguarda proprio lo sled dog, un bellissimo film che si intitola Ticco, è disponibile anche su YouTube, perché vuol dire il tempo per noi è limitato, però con questo film fai proprio vedere direttamente come si svolge una giornata di Mascher, no? Sì, sì, noi questo film l'abbiamo realizzato nel 2021, quindi in piena pandemia su in Svezia, siccome ne hanno state non nate tutte le gare, abbiamo deciso, visto che eravamo là, di realizzare questo film, che è un po' la documentazione di una traversata di circa 300 chilometri che abbiamo fatto in autonomia e quindi dormendo fuori con i nostri cani, in tenda, su un percorso che avevamo prestabilito. Temperature circa meno 20 mi sembra di ricordare. Sì, con temperature anche basse, poi a dire la verità gli ultimi giorni è arrivata anche la pioggia, come sempre spesso accade in Scandinavia negli ultimi tempi, però questo documenta un po' tutte quelle che sono le problematiche di questa attività, di fare queste escursioni con i cani e anche la bellezza del paesaggio, della natura che si incontra insomma in quelle zone lì. Ed è assolutamente tutto da vedere. Quindi il titolo Ticco, vero? Ticco, sì. Perfetto. Ticco, magari diciamo due parole perché si chiama Ticco, perché questo film l'abbiamo realizzato nel Parco Nazionale di Fulufiallet, dove si trova il più antico albero clone vivente, che ha un'età di 9652 anni, stimata, e questo albero si chiama Ticco, che era il nome del cane, del ricercatore che ha scoperto questa pianta, questo albero. Questa è una vera e propria chicca, grazie di questa preciosa informazione. Sì, e la curiosità ulteriore è che è un'attrattiva turistica della zona, del Parco Nazionale di Fulufiallet, nel Dalarna, che è una regione della Svezia, però, pur essendo un'attrattiva turistica, non è stato reso noto dove si trova. Ah, quindi bisogna andare alla ricerca di questa pianta. Bisogna andare alla ricerca e non si troverà mai. Anche perché ce ne sono migliaia di alberi uguali, è stata fatta questa scelta per preservare... Una caccia al tesoro infinita, insomma. Sì, per preservare questa pianta unica, perché altrimenti, secondo me, poi le zone che sono frequentate molto turisticamente sono anche molto suscettibili a essere, diciamo, vandalizzate, se così possiamo chiamare. Anselmo, purtroppo stiamo terminando il tempo a nostra disposizione. In questo ultimo minuto ti chiedo una domanda. Tu, come esperto, ma come appassionato della neve, i cambiamenti climatici, come saranno i prossimi anni sulle Tromiti? È vero l'innalzamento delle temperature che stiamo assistendo a inverni sempre meno nevosi e sempre più caldi. Si potrà sciare nel futuro? Purtroppo la realtà è una realtà abbastanza drammatica, se vogliamo, perché il riscaldamento che abbiamo sulle nostre montagne ha superato quelle che erano le previsioni di qualche anno fa sul riscaldamento globale. Già noi partiamo da una situazione in cui il riscaldamento globale sulle Tromiti è circa il doppio di quello che abbiamo registrato a livello mondiale, perché a livello mondiale si parla di un riscaldamento attuale di circa 1,5 gradi, qua sulle Tromiti abbiamo già avuto un riscaldamento di circa 3 gradi rispetto alla media climatica del trentennio 60-90 del secolo scorso, che è quello che viene preso un po' a riferimento. Quindi siamo già su un livello doppio e questa fase di riscaldamento ha subito un'accelerazione che è anche più rapida di quella che era stata prevista dai modelli e quindi le prospettive non sono delle prospettive diciamo così buone, ecco, sono piuttosto drammatiche se vogliamo. Questo non significa che non nevicherà più, perché si nevicherà ancora, ci saranno ancora delle nevicate che però magari saranno di una neve un po' diversa da quella che veniva una volta, quindi neve più bagnata, il limite pioggia-neve si sta innalzando sempre di più, quindi è sempre più difficile avere un innevamento discreto anche per le attività sciistiche dello sci in pista a quote medio-basse e queste sono le prospettive, insomma. Eh sì, eh già, ci confrontiamo con questo. Anselmo, ma veramente è stato un grande piacere, grazie davvero per essere intervenuto nei nostri studi, allora che dire, beh c'è ancora un po' di inverno, la neve per continuare le vostre uscite. Allora, grazie Anselmo Cagnati, Masher, arrivederci. Grazie a te Claudio, un saluto a tutti i telespettatori. E a voi tutti, gentili telespettatori, l'appuntamento è per la settima prossima per un altro numero di Dormiti Turismo. E a voi tutti, gentili telespettatori,